Tornerà di fronte al GIP il prossimo 17 giugno Freddi Pacini, il gommista di Monte San Savino, che la notte del 28 novembre 2018 sparò ed uccise al ladro che si era introdotto nella sua azienda. Il GIP Fabio Lombardo ha infatti deciso di anticipare di alcuni giorni l'udienza che era stata fissata per il 19 giugno. Per l'imprenditore, il PM Andrea Claudiani, a seguito delle indagini e della perizia balistica, aveva chiesto l'archiviazione, non ravvisando nel comportamento del gommista gli estremi per mandarlo a processo. Si sarebbe infatti trattato di legittima difesa putativa. Il gommista quella notte si sentì in pericolo, sostiene l'accusa. Era solo nel capannone dove da anni dormiva esasperato dai furti subiti, non aveva via di fuga e temeva che i malviventi fossero armati. Svegliato nel cuore della notte dall'irruzione dei banditi, fece fuoco cinque colpi, di cui uno mortale, con la pistola regolarmente detenuta dal soppalco verso il piano terra. Nell'aula del GIP la prossima settimana ci saranno tutte le parti in causa. Fredi Pacini con l'avvocato Alessandra Kelly, il PM Andrea Claudiani e l'avvocato Alessandro Cristofori di Bologna, che rappresenta la sorella di Mircea Vitalie, il moldavo di 29 anni che quella notte rimase ucciso. Il GIP poi potrà decidere se confermare la richiesta del PM oppure potrà richiedere nuove indagini o ancora rinviare a giudizio Pacini.